Consiglieri provinciali, i vari sindaci, i colleghi sindaci che sono intervenuti dai I paesi della comunità montana, i consiglieri comunali, i assessori, tutti, scusate se dimentico qualcuno ma veramente oggi c'è tantissima gente E a me veramente come padrone di casa questa cosa veramente mi onora Mi onora a me e a tutti i concittadini di Valle Agricola perché veramente hanno dato il massimo affinché questa festa riuscisse nel migliore dei modi E infatti a loro va il mio ringraziamento personale, a loro e a tutte le persone che si sono impegnate perché veramente sono stati tutti molto impegnati per le organizzazioni In particolare alla Prologo di Valle Agricola che veramente ha fatto tantissimo affinché tutto riuscisse nel migliore di modi Alle altre associazioni, ai Quattopizzi E qua il direttore Cuffer, lui abita a Mietri sul mare ed è il presidente regionale dell'Unione Nazionale delle comunità montane Stiamo facendo una battaglia insieme e insieme agli altri presidenti e alle altre comunità montane Per far capire alla regione che le comunità montane sono importanti e devono salvaguardare questo nostro bel territorio Stiamo facendo una battaglia insieme agli altri presidenti e alle altre comunità montane Stiamo facendo una battaglia insieme agli altri presidenti e alle altre comunità montane Stiamo facendo una battaglia insieme agli altri presidenti e alle altre comunità montane Stiamo facendo una battaglia insieme agli altri presidenti e alle altre comunità montane Stiamo facendo una battaglia insieme agli altri presidenti e allealtime Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.